Proseguono i cantieri nel comune di Fano. Nella giornata di ieri sono partiti infatti i lavori al campo dei militari lungo Viale Piccino all'altezza del Cavalcaferrovia. Il campo, oggi campo sportivo, che ospita le squadre giovanili dell'Alma Juventus Fano per gli allenamenti e gli incontri, vedrà alcuni importanti lavori per l'ammodernamento dell'impianto. Quali sono nel dettaglio questi lavori? Nel dettaglio consiste nella realizzazione di un blocco spogliatoio che va a completare l'intero spogliatoio, in quanto attualmente ce ne sono tre, ma non sono regolari. Con il quarto, che ha una dimensione di 22 metri per 6,50, realizzeremo due nuovi spogliatoi per gli atleti, due spogliatoi per gli istruttori barra allenatori e i tre blocchi che sono esistenti, uno verrà destinato ad infermeria e gli altri due a magazzini, depositi eccetera. E invece quali sono i costi? Il costo complessivo dell'intervento di progetto è 290 mila Euro. La gara è stata vinta da un raggruppamento temporaneo di imprese residente in provincia di Avellino. Praticamente il costo complessivo 179 mila Euro. Quello che rimane poi verrà destinato a migliorare la tribuna piuttosto che la recinzione e altri lavori necessari nell'impianto sportivo. Ma oltre a questo, i lavori prevedono anche la realizzazione di 40 parcheggi tra posti auto e motorini, una nuova illuminazione e la potatura delle piante. Questa mattina il vice sindaco Cristian Fanesi insieme ai tecnici del comune hanno effettuato un sopralluogo. È un progetto che abbiamo fatto come comune di Fano accedendo al finanziamento di sport e periferie. Quindi questo finanziamento è in parte coperto da quei contributi ed è una cosa importante perché quest'area che era una volta usata dai militari che appunto stavano alla caserma Paolini è stato ceduto al comune di Fano, sono stati fatti dei lavori, non tantissimi da quella volta e adesso andremo a renderlo disponibile per fare delle gare anche ufficiali. I lavori consisteranno appunto nel recuperare quello che già c'è, un spogliatoio nuovo ma anche a sistemare l'area quindi parzialmente la tribuna ma un parcheggio, la potatura delle piante, anche l'eliminazione laddove è necessario con una nuova segnalettica quindi rendiamo più gradevole quest'area che comunque utilizzata tantissimo dai giovani soprattutto e comunque dal mondo sportivo della città di Fano. Quindi siamo contenti perché si mette in mano effettivamente un campo che insomma segna l'età che ha e quindi andava a riqualificare.